Vieni e vedi Sono Breslin, la causa del decesso? Non siamo sicuri che ci sia un vero decesso Vieni e vedi che cosa? Dai, lascia lavorare papà Quando lo abbiamo trovato gli mancavano tutti i denti Ma questo è stato l'ultimo dei suoi problemi E ha negato nel suo stesso sangue Vieni e vedi Era scritto sui quattro alberi nel luogo dove lo abbiamo trovato Ed era scritto sulle quattro pareti nell'appartamento Sapete dove vieni e vedi appare per ben quattro volte? Nelle sacre scritture I quattro cavalieri dell'apocalisse Chi l'ha trovata? La figlia maggiore Dove sono? Papà! Ha visto cosa ha fatto a mia moglie Se c'è qualcosa che io possa fare per lei Arresterà la persona che ha fatto questo Ce la metterò tutta Ti prego Se hanno scelto i cavalieri come ispirazione c'è una ragione ben precisa Mi dispiace tanto Di che cosa sei dispiaciuta? Dimmi Se aspetti che le cose vadano sempre peggio Siamo soltanto all'inizio Mi dispiace tanto Di averle dato questa Che mi dici degli altri tre? Non le troverai mai Quindi lascia perdere Il prossimo sono io Chiuditi in casa Ti prego non discutere Alex Ora abbiamo la tua attenzione vero? Succederà domani Quanti ancora? Dimmelo Aiuto, aiuto Mi fento di tutti i miei peccati Lo giuro